Dopo l'udienza di lunedì 6 giugno in Tribunale a Pavia c'è attesa per la decisione del GIP sulla proroga delle indagini relative alla morte per annegamento della destratrice cinofile ed ex modella Polina Cocelenco. La famiglia della 35enne di origini russe, trovata morta in un canale nei pressi di Valeggio in Lomellina nell'aprile 2021, ha infatti chiesto ulteriori indagini per chiarire quanto accaduto. Il sospetto è che la morte della donna non sia stato, come ritenuto dalla procura, un incidente dovuto al tentativo di salvare dei cani di razza finiti nella roggia, ma un omicidio. Lunedì si è tenuta l'udienza davanti al GIP Maria Cristina Lapi, dopo che tramite l'avvocato Tiziana Barrella i parenti di Cocelenco avevano presentato opposizione alla richiesta di archiviazione della procura. La decisione è attesa a breve. I legali della famiglia chiedono che si faccia luce sulle ultime ore di vita della donna uscita per portare a passeggio sei cani, di cui due di sua proprietà e quattro di un'azienda cinofila con cui collaborava. Cani di razza del valore di migliaia di euro ciascuno, due dei quali sarebbero letteralmente scomparsi nel nulla. Ma anche altri elementi non convincono i familiari, assistiti dall'investigatore Claudio Ghini di Stradella e dal superconsulente Fabrizio Vinardi. Per esempio, la distanza fra il luogo di ritrovamento del corpo e il presunto punto di caduta in acqua, oltre al fatto che la Cocelenco, in ottima forma e abile nuotatrice, sia annegate in acque poco profonde, quando l'autopsia, disposta dalla procura, avrebbe escluso malori precedenti. O ancora il ritrovamento di oggetti personali, come un iPhone, e degli auricolari di ultima generazione, a notevole distanza dal presunto punto di caduta in acqua. O, infine, il fatto che i pastori tedeschi, che la donna avrebbe tentato di salvare dopo che erano caduti in acqua, come documentato da queste immagini, sapevano perfettamente nuotare. La vicenda ha sensibilizzato l'intera Italia. Unità che si chiede ancora oggi quale sia realmente la storia e quale sia veramente la verità. Siamo, ovviamente anche noi, ufficialmente concordi nel dire che la dottoressa Cocelenco sia morta affogata, ma quello che ovviamente non ci torna come conti sono le sue ultime ore di vita. Ma siamo fiduciosi, siamo fiduciosi che il GIP di Pavia saprà sicuramente dare soddisfazione alla famiglia.